Il Virginia International Auto Show 2024 è ufficialmente sbarcato a Richmond per mettere in mostra auto, camion, sub, veicoli elettrici e macchine d'epoca. Sono Josh, siamo qui a Richmond Auto Show all'esposizione della Toyota. Abbiamo un sacco di grandi cose da fare oggi. Facciamo spettacoli tutto il giorno, abbiamo ricevuto numerosi premi in questi anni, quindi se vuoi vieni qui e divertiti. Questo è il posto giusto per farlo. La grande novità di quest'anno riguarda la nuova frontiera dell'elettrico, con una pista che consente ai visitatori di salire sulle auto e sperimentare le prestazioni dei veicoli elettrici di ultima generazione. Mi basta solamente dire, hey Lexus, alza la radio, alza la musica, potrai concentrarsi sostanzialmente sulla strada e guidare in sicurezza mentre ti chiedi cos'è questo per fare ovviamente tutto. La mostra è visitabile a Richmond fino al 18 febbraio nella zona di Convention Center, con il Salone delle Auto, che metterà in evidenza un'ampia gamma di nuovi modelli 2024. Uno spazio espositivo speciale, denominato Electric Valley, mostrerà dei modi divertenti per passare all'elettrico e verranno messe a disposizione diverse attività interattive per i bambini. Il futuro dei motori oggi è qui e ci sta già indicando la strada da percorrere. Stefano Scibilia, Italy News, Richmond